Serve uno scatto in avanti, un sussulto di responsabilità tra le forze politiche, quelle che hanno soprattutto vinto le elezioni il 4 di marzo, che devono raccogliere l'invita autorevole del Presidente della Repubblica a ritrovarsi sulla via della mediazione, del confronto, dell'ascolto, per dare al Paese un governo, un governo sostenuto da una solida maggioranza parlamentare, capace di affrontare sfide che abbiamo davanti. Primo fra tutti c'è il tema del lavoro, bisogna mettere al centro una strategia per il lavoro, per l'occupazione, soprattutto per i giovani, parlare di dignità del lavoro, di valore sociale del lavoro in Italia è una grande, grande priorità. E poi bisogna sostenere, rafforzare questa crescita, questa ripresa che comincia ad avvicinarsi. E bisogna farlo con politiche economiche nuove, con una strategia di rilancio degli investimenti pubblici e privati, con una riforma del sistema fiscale che riduca il peso delle tasse sui cittadini, sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese. Bisogna darsi una strategia strutturata di rilancio della politica industriale. Bisogna fare grandi investimenti sulle infrastrutture. E poi bisogna mettere in campo politiche di vera coesione nazionale per ridurre i divari sociali, economici, produttivi, occupazionali tra nord e sud del Paese. Questa è una delle priorità che la CISL avanza al nuovo governo che verrà.